Questo basso rilievo l'ho realizzato in Creta per il poterlo riprodurre poi di gesso, riprendendo un concetto straordinario. Straordinario perché l'aveva pensato Aristotele, siamo nel III secolo avanti Cristo, l'aveva modellato per la prima volta l'Isippo, il più grande scultore dell'Ellenismo, e lo fecero per il più grande e mitico dei conquistatori di terre, che era Alessandro il Macedone, Alessandro Magno. Rappresenta l'idea della fortuna, dell'occasione, diremmo noi in italiano oggi, come veniva vista dai Greci del III secolo avanti Cristo. E così si spiega. È un uomo nudo, con lunga barba, perché è saggio, che vola nell'atomosfera. L'atomosfera, lo spazio infinito, è dato dal sole, dalla luna e dalla stella che ha sopra, e le nuvole che gli stanno sotto i piedi, perché la fortuna non si sa quando arriva e da dove arriva, e che cosa permea. È come l'aria, sta tra tutte le cose in mezzo. È rappresentato questa figura virile in movimento con delle ali ai piedi e con delle enormi ali alle spalle, perché vola e come il vento si posa dove lei o lui decide. Tiene nella mano sinistra un rasoio, un rasoio per farsi la barba, per radersi, che dunque ha una lama sottilissima. Su questa lama è appoggiata la barra di una bilancia. Sulla lama del rasoio, lo diciamo ancora da oggi, per dire quando una cosa è in bilico precario. Viene con la mano destra abbassato uno dei contenitori della bilancia con un gesto scaramantico di corna, dunque diabolic, contro il male, contro il negativo, per pesare, dunque per portare verso di sé i contenuti più pesanti, cioè la bilancia porta averi dalla tua parte e pesa verso di te, porta fortuna. Non è vuota, è piena. Il tutto è retto da un individuo che vola sulla tomosfera senza avere una direzione e la bilancia appoggia sulla lama di un rasoio a dire quanto sia sottile la stabilità della fortuna. A sottolineare poi quanto la fortuna sia qualcosa da percepire e da intendere nel momento che arriva, senza pensare troppo se approfittarne, ma acciuffarla al momento dell'arrivo, lo scultore ha reso la nuca completamente calva, rappresentato solamente con un ciuffo che tu devi pigliare nel momento che arriva perché se giusto un attimo dopo vuoi pigliarla perché ti sei reso conto che ne valeva la pena, non la puoi più acciuffare perché la nuca è completamente calva. A sottolineare la precarietà dell'attimo fuggente, del carpe diem, c'è anche l'erezione perché l'erezione non è permanente, è un'occasione.